Martedì 23 gennaio, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il Tg Mattino di TRG, prima pagina, le notizie in evidenza dall'Umbria in particolare, vedremo le imprese, ovvero l'analisi della Camera di Commercio sull'andamento 2023 delle imprese in Umbria, quante hanno aperto, quante hanno chiuso, con un saldo che è negativo. E poi le polemiche sul sindaco di Terni Bandecchi, le sue dichiarazioni definite sessiste in Consiglio Comunale, la protesta degli agricoltori che ieri è arrivata anche in Umbria. Il Corriere dell'Umbria titola l'anno nero delle imprese, nel 2023 in Umbria sono state più le chiusure 4.114 che le aperture 3.975, non accadeva dal 2009. E poi c'è la dichiarazione del procuratore Cantone contro il DDL Nordio, un errore abolire l'abuso di ufficio. La fotonotizia ci porta a Foligno con il sindaco Zuccarini che premia due amici che hanno fatto il giro del mondo di corsa, lo leggeremo nelle pagine di Cronaca Locale. Terni Bandecchi, bufera su Bandecchi, accusato di sessismo dopo le dichiarazioni in Consiglio Comunale. Da città di Castello lancia gatto dall'auto ritrovato il padrone dopo la denuncia sui social e annorcia una colletta per il povero rapinatore. Un uomo aveva assaltato le poste, poi era stato assaltato le poste con una pistola giocattolo, era stato individuato e arrestato dai carabinieri, si trova in difficoltà economiche, i suoi amici hanno promosso una colletta per aiutarlo. La Nazione apre con l'altro caso di Cronaca da Tribunale che è un po' in primo piano quest'oggi nella nostra rassegna stampa, torniamo a parlare della morte di Samuele De Paoli, scatta il ricorso perché la Procura Generale si appella contro l'assoluzione della transpatrizia, l'omicidio è avvenuto fuori dall'auto. Da Terni il sindaco Bandecchi, gli uomini guardano, potete immaginare che cosa delle donne, le opposizioni si ribellano e lasciano l'aula. La fotonotizia ci porta a parlare di imprese, l'impresa al rovescio, saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni per la prima volta dal 2009, la provincia di Perugia maglia nera. Dai singoli territori, leggiamo il dorso regionale della Nazione, ancora un furto a Perugia in profumeria, messaggi intimidatori ad una vittima di stupro, sanità arrivano 65 milioni per l'Umbria. E poi in basso la protesta ieri degli agricoltori dal territorio di Spoleto, Umberti, De Gubbio, senza noi non si mangia la rabbia degli agricoltori, mentre a Spoleto arriva Frassica, ripartono le riprese di Don Matteo. Il messaggero, in un anno sparite 4 mila aziende, anche qui l'apertura dedicata al report della Camera di Commercio sul saldo delle aziende nel 2023, sono più quelle che hanno chiuso che quelle che hanno aperto. Non accadeva dal 2009, mencaroni della Camera di Commercio, in corso un riassetto del tessuto imprenditoriale. E poi Samuele è stato strozzato, la Procura Generale impugna l'assoluzione di Patrizia e ricorre in appello. Bandecchi shock, qui siamo a Terni sulle donne e la violenza di genere. A Terni, aggressione serale, dammi soldi o le sigarette, sedicenne pestato dai bulli. A Perugia, stupro in piscina, la vittima minacciata sui social. E poi, in basso, da Umbertide, Giudò Caccelo, scala il bianco per il compleanno. La nuova sfida di Michele Milli. Andiamo a vedere alcune delle notizie in primo piano. Questo è il messaggero, come abbiamo visto, il saldo 2023 delle imprese è una delle notizie in primo piano. Quest'oggi, dai quotidiani dell'Umbria, per la prima volta in 15 anni, le cessazioni delle imprese superano le nuove aperture. Nel 2023, iscrizioni sotto quota 4.000. Sono 139 le aziende che non sono state rimpiazzate. Magari nel dettaglio delle 7.30 della nostra rassegna stampa vedremo il grafico. E poi, Treni, rimborsi ai pendolari, corsa per riavere i soldi. Da freccia bianca a freccia argento, c'è tempo fino a fine mese per il cambio. Comitato e consumatori chiedono un confronto con la regione. Intanto ieri è stato siglato un accordo tra Anci e Lega Cop per promuovere comunità energetiche. L'inverno è stato sinora caldo, la riproduzione delle trote è in grande ritardo. Il grido d'allarme è stato lanciato da Lega Ambiente. Andiamo alla Nazione. Nuovo colpo al negozio Douglas. Qui siamo a Perugia. Ancora un blitz di un ladro di profumi è riuscita a deludere la vigilanza. Secondo furto nell'arco di cinque giorni. E poi, vogliono che ritiri la denuncia. Siamo sempre a Perugia, esattamente a Ponte San Giovanni. Abbiamo raccontato qualche giorno fa la storia di uno stupro che è stato consumato nella piscina di Ponte San Giovanni quando questa era chiusa. Ebbene, sono arrivati messaggi intimidatori alla vittima. Tre persone vicine al ragazzo arrestato per violenza sessuale scrivono su Instagram alla giovane Di Fabriano, vittima dell'aggressione, invitandola a fare un passo indietro. Lei chiaramente denuncia il fatto. Le imprese fanno retromarcia. Anche la Nazione si occupa dei dati della Camera di Commercio. Perugia più chiusure e caperture. Il commercio è in sofferenza. Intesa tra Anci e Lega Copp, le comunità energetiche, insieme per crescere. Patto per incentivare nei comuni la diffusione del modello cooperativo. Il professor Belardi non ammolla. Parliamo di elezioni. Il centro-sinistra verso la scelta del candidato. Incontro sul futuro della città. Chiaramente stiamo parlando di Perugia. E poi dal Corriere il commento del procuratore di Perugia, Cantone, ex numero uno di Anac, al DDL Nordio. Errore clamoroso. Abolire l'abuso di ufficio. Andiamo ancora a parlare del Corriere che quest'oggi dedica un reportage all'Umbria sotterranea, all'Umbria delle grotte, tra fascino e mistero. Ovviamente tutto da leggere. Questo in evidenza. Andiamo a vedere ora dai singoli territori, ripartendo dal Corriere dell'Umbria. Il campo largo punta alla vittoria. Siamo a Perugia. Parliamo chiaramente di elezioni amministrative. La dottoressa Ferdinandi, che si chiama Vittoria appunto, potrebbe essere la candidata del centro-sinistra alle prossime elezioni comunali. E poi stop a Perugia alle barriere architettoniche. Un piano per eliminarle è stato approvato a Palazzo Comunale. La piaggia dei filosofi da tempo è indecente. Siamo sempre a Perugia. Strada Colabrodo è pericolosa. I residenti della zona non ricevono risposte però dall'amministrazione. Torna il Carnevale a San Sisto. Sfilano i carri allegorici. Si inizia domenica 4 febbraio. Ancora da Corriere siamo senza il centro di salute. Sempre da Perugia. Sospese causa lavori le attività della clinica a Castel del Piano. La protesta del portavoce del comitato Pievaiola. Peltristo. Voci di una possibile chiusura da dicembre. Abbiamo creato una petizione per salvare i servizi. Si torna a parlare di Laura Santi e del fine vita stasera. Sulle Iene, la 49enne perugina protagonista di questa puntata. Chirurgia vascolare. Siamo al Santa Maria della Misericordia. Inaugurata dopo la ristrutturazione alla cerimonia. Ha partecipato anche la presidente della regione Tesei. Ancora da Perugia parliamo di Santo Patrono alla ricerca di San Costanzo. Lunedì passeggiata con tappe in Galleria Nazionale, Museo del Capitolo e Biblioteca. Ancora il giorno della memoria. Sabato tavola rotonda alla sala dei notari a partire dalle ore 9. Donne ebrei italiane dal 38 al Shoah. Questo il tema. Ci spostiamo, andiamo a Città della Pieve, innovazione digitale al Calvino. A scuola arrivano kit per l'analisi del DNA, lavagne di vetro e i glass, visori e stampanti 3D. A Piegaro sono stati festeggiati i 100 anni dello Smeraldo. Il corpo bandistico è tra le associazioni più longeve della Val Nestor. E poi a Castiglione del Lago, giornata della memoria, tra cinema e spettacoli teatrali. Tante le iniziative. Siamo ad Assisi, piatto di Sant'Antonio. Si cambia, i priori serventi 2024 hanno passato le consegne all'associazione. Intanto l'edizione chiude con 10.000 presenze. Le amministrative a Bastia Umbra, centrodestra, sgarbo di Forza Italia, la Lungarotti. Nel Mirino, la riunione convocata dagli azzurri con degli esposti e migliorati. Ancora andiamo avanti. Ci spostiamo nel territorio di Todi, Ponte e Beili. Mania sono tanti i curiosi attratti dalla storia. Un mese fa l'inaugurazione della struttura per decenni in abbandono. Dopo 40 anni a Ponterio e Pian di San Martino si rivedono visitatori. In tanti a Marciano, a San Sigismondo per benedire gli animali nel tradizionale appuntamento della festa di Sant'Antonio. Ancora Todi, sì alle agevolazioni tari, sono state accolte in comune 131 domande. Andiamo in Alto Tevere, Palazzo Bufalini. Via ai lavori, iniziati gli interventi da oltre 500.000 euro. La struttura tornerà ad essere la casa della cultura e delle arti. L'attore Mauro Silvestrini, protagonista sulle reti Rai, Il Tifernate è entrato nel cast di Il Paradiso delle Signore. E poi lotta alla violenza sulle donne in un anno 200 chiamate in più. Sono state 590 le persone che si sono rivolte al centro Medusa. E poi ancora, grande successo per il torneo di scacchi per bambini. 36 giovanissimi giocatori si sono sfidati a Città di Castello nella sala Rossi Monti. Ancora andiamo nel territorio di Umbertide. Sei appuntamenti dedicati ad Umbertide alla figura di San Francesco. Sono in programma da venerdì al convento. A Lisciano Niccone lavori per oltre un milione di euro nelle frazioni e nel capoluogo. A San Giustino, riduzione della Tari, c'è il bando. Le domande vanno presentate entro il 30 marzo. A Gubbio la nuova piazza prende forma. Partita la fase finale dell'intervento nel cuore dell'acropoli. Stasera sul meeting comune per decidere sugli intarsi geometrici. Elba ha donato un macchinario all'ospedale di Branca. E poi, ancora da Gubbio, buche pericolose sulla strada per Mengara. C'è un'interrogazione del consigliere Goracci. Giochi delle porte, Anzuini e il nuovo gonfaloniere, siamo a Gualdo Tadino. Il verdetto è uscito dal bussolo. Il priore di San Martino ha raccolto 42 voti su 48 disponibili. Vetrina marchigiana per le opere di Stefano Luzzi. L'esposizione organizzata dal Rotary di Fabriano e dalla Regione, ispirata dal Museo della Carta e della Filigrana. A Foligno, cattedrale aperta a settembre. I lavori procedono spediti. Presto il patrono San Feliciano tornerà dopo 8 anni nella sua casa. E poi, la cronaca, picchiano il datore di lavoro con i tubi condannati a 10 mesi, tre giovani operai. La difesa ha presentato appello. E poi, scippi e rapine, nuovi controlli nei locali pubblici e in periferia. La polizia identifica 199 persone nel Folignate. Il giro del mondo in 30 anni di corsa. La storia di due amici, che sono stati premiati dal sindaco Zuccarini di Foligno, hanno percorso 40 km, ovvero l'intera, 40.000 km, ovvero l'intera circonferenza del pianeta. Siamo a Norcia, una colletta per il rapinatore. Una storia singolare. Armato di pistola, aveva pistola giocattolo, aveva svaliggiato le poste. Era disperato, dicono gli amici. Meritava di essere aiutato. Era stato, ovviamente, arrestato dai carabinieri. È accaduto qualche giorno fa. Gli amici, che conoscono le sue condizioni economiche, promuovono una colletta in suo favore. Don Matteo a Spoleto sfida a colpi di selfie in Piazza Duomo. Tanti appassionati in centro storico per l'inizio delle riprese della Fortunata Fiction. Cast Trooper resteranno in azione fino al 25 febbraio. Lotta all'adescamento online. Siamo sempre a Spoleto. Lezioni speciali al Liceo delle Scienze Umane. Coinvolti 80 studenti e 5 insegnanti. È uno dei fenomeni in preoccupante ascesa. A Giano dell'Umbria un gemellaggio con Atripalda. Il sindaco Petruccioli e il suo vice, ospiti del comune Irpino. Ci spostiamo, andiamo a Terni, dove campeggia questa notizia. Il sindaco Bandecchi spiazza il consiglio. I maschi guardano il lato B. Non ha detto propriamente questo. Nuova sortita del sindaco sulle violenze di genere. Le opposizioni abbandonano Laura per protesta. L'atto di indirizzo passa con i voti della maggioranza. Francesc Angeli dice ostruzionismo dalla minoranza. Attenzione alle stelle in consiglio comunale sul tema della violenza di genere. Le dichiarazioni di Bandecchi vengono definite sessiste. Lui dice vogliono mandarmi in esilio e allora scelgo l'isola d'Elba come accadde a Napoleone. Andiamo avanti, siamo sempre a Terni, cardinali, priorità ai casi AST, Treofan e rapporti con Enel. Il nuovo assessore ha visto assegnarsi le deleghe allo sviluppo economico, rapporti con le multinazionali e rapporti con i sindacati. Ancora da Terni, Will, funzione pubblica, il tribunale blocca il congresso straordinario, prosegue il braccio di ferro tra gli iscritti ternani e i vertici regionali che hanno deciso il commissariamento. Ragazzino pestato a sangue, siamo sempre a Terni, preso a pugni da due giovani che trovandolo senza soldi gli hanno portato via le sigarette e sono fuggiti. Indaga la questura, il tutto accaduto nella zona del caos di via Campo Fregoso. Ancora siamo nel territorio di Narni dove piazza Garibaldi sarà pronta a giugno. Ha accumulato un ritardo di due mesi, in aprile sarà riaperta solo a metà, incidendo sui cortei della corsa all'anello. E poi fiori del sindaco di Narni per la signora Gemma Sugoni che compie 103 anni. Tanti auguri. Andiamo a Orvieto, l'intrepido pacchetto turistico Il Cammino stringe accordo con un'agenzia di viaggi, coinvolgerà produttori locali di cibo e vini e nonché strutture di accoglienza. Anche qui si parla di elezioni amministrative, Fratelli d'Italia e noi moderati riconfermano il sostegno alla Tardani. Questo era il Corriere, andiamo rapidamente a vedere gli altri quotidiani. Lo facciamo con la Nazione ripartendo dalle pagine di Perugia. Allora abbiamo visto che in primo piano nelle pagine regionali si parlava di economia. Da tutto Perugia, giorno della memoria dedicato alle donne. Cerimonia alla Sala dei Notari e in Piazza Michelotti sabato a partire dalle ore 9 con la posizione di una pietra d'inciampo e letture del Mariotti. Il tutto appunto per il giorno della memoria. Andiamo a Magione, Parco del Trasimeno, esposto d'Italia Nostra all'Associazione Ambientalista, torna all'attacco e segnala quelle che ritiene irregolarità realizzate da alcuni privati lungo l'area demaniale. Ci spostiamo, andiamo nel territorio di Assisi. Maxi controlli in un anno, ritirate 23 patenti, elevate oltre 10.000 multe. Questo il bilancio della polizia locale. A Todie si arriva a quota 76% di raccolta differenziata. A Bastia verso le elezioni comunali, malumori nel centro-destra. Gli esponenti della lista Lungarotti, sindaco, parlano in questo servizio. La protesta dei trattori, ne parleremo più diffusamente con un servizio nella nostra rassegna stampa delle 7.30, sitina Bastia Umbra, ma ci sono state ieri manifestazioni anche a Umbertide e Gubbio. Andiamo a Gubbio, proprio in arrivo, 28 nuovi alloggi popolari. Progetto da 2 milioni e mezzo di euro, presentato dal Comune, esempio virtuoso nella scelta della destinazione di finanziamenti e risorse. Al via da oggi il tradizionale mercato settimanale, che era stato sospeso per il trasloco di vieto di transito e sosta nella zona del Teatro Romano. A Gualdo Tadino, quattro progetti per il recupero dell'eremo del Beato Angelo, elaborati dall'ITS Academy di Perugia. A Nocera, Borgo San Martino, donati ulivi e sei pini al Comune. Andiamo avanti, ci spostiamo in Alto Tevere, Balazzo Bufalini, partiti lavori per 540 mila euro. E poi Dei e Monache spose a Città di Castello, una esposizione realizzata dagli studenti di Plinio il Giovane, il liceo. A Umbertide esplode la protesta degli agricoltori. Cibi sintetici, costa le stelle, mercato pazzo in 200 ieri sulla Pian d'Astino per salvare le aziende. Come dicevamo, ne parleremo più dettagliatamente alle 7.30. Con la nostra rassegna stampa a Città di Castello, tornano le domeniche del Circolo degli Illuminati. A Foligno, città in festa, San Feliciano, è il patrono, messa in processione, tanti gli appuntamenti religiosi previsti per questi giorni, c'è spazio anche per la tradizionale fiera. E allora stasera i primi vespri a partire dalle ore 18. A Spoleto, Don Matteo, via le nuove riprese, ma Frassica lascia a casa la famiglia, arriva da solo. E poi da Terni, la vicenda delle dichiarazioni del sindaco Bandecchi in Consiglio Comunale ritenute sessiste. Gli uomini guardano il lato C, potremmo dire così, dove capite che cos'è la C delle donne, questo ha detto e ovviamente esplode la protesta. Si è scippate strutture d'eccellenza all'ospedale Santa Maria e poi da Orvieto, riapertura del tribunale nel mistero, non esiste questa possibilità. Garbini, presidente del Consiglio Comunale, sventisce il sindaco Tardani. Ancora da Orvieto, accoglienza extra alberghiera e lotta all'abusivismo. Questa era la nazione, andiamo alle pagine del messaggero, quelle chiaramente del quotidiano regionale. Si riparte da Perugia, al riscaldamento KO chiude il distretto a Castel del Piano. Stop delle attività a partire da venerdì per la sostituzione dell'impianto. Centrosinistra, siamo a Perugia, modello Napoli, si muove Roma per l'intesa. Ferdinandi in crescita, incontro tra Romizzi, Prisco e Calabrese. Il progetto per dare un candidato unico è in campo, la Morbello con Bandecchi. Queste le novità. Ancora siamo al, eccolo qua, il dispetto del quotidiano sul momento. Ritorniamo allora alle pagine, eccole qua, del messaggero. Boutique sotto assedio, nuovo ride, altro assalto a Perugia, ai negozi in Corso Vannucci. Protagonista è il ladro che ruba costosi profumi per pagarsi le dosi di cocaina. Agricoltori in strada per difendere i prodotti locali. Come dicevamo, ne parleremo più dettagliatamente nella rassegna stampa delle 7.30. E poi Todi in centro polemica per il secciato di Sestato, Italia Nostra, Amagione, esposto per le zone demaniali. Ancora dal messaggero, andiamo a Foligno, Carnevale di San Teraclio, tutti i segreti dei carri. Tra l'altro venerdì proprio il presidente del Carnevale di San Teraclio sarà ospite della nostra rubrica Il Caffè, quindi gli diamo appuntamento a venerdì. Solennità a Foligno di San Feliciano, ovviamente tutte le iniziative per la festa del patrono. Don Matteo a Spoleto al Vio le riprese, ma non c'è Nino Frassica. Ieri i primi ciac, nel primo giorno di lavorazioni assente anche Bova, dietro le quinte sotto i riflettori, fotografi e troupe per il caso Iro, il famoso ormai gatto di Frassica. Andiamo avanti, ci spostiamo, andiamo a Terni, Bandecchi Shock, Scontro sulle Donne, questo è chiaramente il titolo. Addio allo speleologo morto in grotta, rianimato a lungo, ora c'è solo dolore. Gli amici rendono omaggio a Mirko Madolini, era esperto, ha perso conoscenza mentre era seduto. Ancora un euro o le sigarette a Terni, un ragazzo pestato dalla baby gang, sedine aggredito da due giorni, comparsi dal nulla nella zona di Cospea. E poi un docufilm per celebrare il talento di Mario Ridolfi, il racconto dell'architetto che ha ridisegnato la Terni del dopoguerra, la prima proiezione di questo docufilm il prossimo 10 febbraio. È tempo di aprire le pagine di sport, lo facciamo con il messaggero. E siamo a Terni. Fere è rottura con Diachité. Il difensore andrà al Palermo, ieri ultimo allenamento a Terni, il presidente guida, stiamo definendo la sua cessione. E poi Grifo, tre riprese da schiaccia sassi con Formisano, nuova gestione dei match, primi 45 minuti di studio, poi il Perugia si scatena, cambi decisivi pure con la Spal Paz, una vera rivelazione, Silla-Falanplein, triste di vittorie dopo 705 giorni. E poi in basso parliamo del gubbio, Bulevardi addio, Rebus Portanova, ora Braia chiederà un altro innesto. Questo era il messaggero, andiamo al Corriere dell'Umbria e allora le sue pagine dello sport aprono con la Ternana, Diachité va al Palermo. Dopo il rifiuto a scendere in campo con il Cittadella, ieri la conclusione della trattativa, i rosa-nero siciliani verseranno un milione e mezzo più bonus nelle casse della Ternana, Mantovani e Lascoli di nuovo vicini. Ancora andiamo a Perugia, Grifo, Paz, Bomber a sorpresa, la doppietta alla spalla e lo porta a quota 5 gol, fare il quinto è l'ideale, mi spingo sempre avanti. I meriti di Lisi e il calcio verticale di Formisano, intanto dal mercato, Dell'Orco e Bozzolan in stand-by, Acella passa alla Gianna Erminio. Andiamo a gubbio, l'addio di Bulevardi, lascia il rosso-blu, va a Monopoli nel girone C, per lui accordo fino al 2025, il trasferimento era nell'area da tempo, a fermo non era nemmeno in panchina. E poi in Serie D un Trestina con le mani bucate, Ciampelli più pazienza e testa, il tecnico dopo il pari amaro e rigori sbagliati. Col Querceta da Orvieto sempre in Serie D, Rizzolo bastone e carota con i suoi, l'Orvietana non basta giocare bene. Andiamo in eccellenza, siamo a Foligno, ACF e poi spunta Moracci, primo gol in campionato per il difensore, che dice, mi sono sbloccato, una vittoria cruciale. C'è spazio ovviamente anche per il volley, parliamo di volley di Superlega, Sir Prudenza con Taranto, domani il turno infrasettimanale, gli Ionici hanno chiuso sette gare al tie-break, la squadra è quasi salva, ha la terza miglior ricezione e solo due volte non ha conquistato un set. Questo era il Corriere, chiudiamo la rassegna dello sport con la Nazione, e allora rapidamente andiamo alle pagine sportive, vedremo tra l'altro in quelle di carattere nazionale, più tardi alle 7.30 nella nostra rassegna stampa, il tributo oggi di tutti i quotidiani nazionali a Gigi Riva. Allora, dalla Nazione, il Grifo vola con Paz esterno col vizio del gol. Bella vittoria, dice, spero di continuare a segnare. Guppio prova di forza e maturità, terzo successo di fila in trasferta, e poi da Terni, Ternana, Diachite saluta e passa al Palermo. I Rossoverdi dovrebbero incassare poco meno di un milione e mezzo. Ancora da Perugia, parliamo di volley, non montiamoci la testa, parla il presidente Sirci, della Sir Susa Vim Perugia, dopo la bella vittoria contro Modena. Bene, ci fermiamo qui per questa prima pagina, ma chiaramente approfondiremo tutto questo nella nostra rassegna stampa delle 7.30. A tra poco.